Le donne con i muscoli, le cosiddette donne muscolose. Vediamo in questo video di oggi le donne che appartengono a tale categoria sociale. Innanzitutto, le donne muscolose piacciono a me Leandro, conoscito italiano, oppure no? Allora, se sono troppo muscolose no, non mi piacciono, sono sincero. Qualche muscolo, va bene, qualche muscolo delle gambe, sui glutei, sì, no addominali, no seni duri, quindi no bicipiti, va bene, sì muscoli sul culo, sul sedere, quindi sì muscoli alle gambe, va bene, ai polpacci, no addominali, no bicipiti, si bicipiti molto leggeri, una cosa leggerissima di muscolo, va bene. Ecco questo per quanto riguarda il gusto leandriano a proposito delle donne muscolose, ok? E le donne muscolose a alcuni uomini piacciono, addirittura ci sono uomini che hanno un feticismo particolare nei confronti delle muscolose, in che senso? Nel senso che adorano essere picchiati, essere, diciamo così, maltrattati da parte delle donne muscolose, quindi quelle che hanno, ripeto, i muscoli, quelle muscolose, diciamo, che attirerebbero gli uomini che adorano essere picchiati, ok? Ci sono molti uomini, ripeto, per la centesima volta, che adorano, provano un senso di feticismo nei confronti di quelli, cioè nei confronti di queste donne che hanno i muscoli e in qual proprio questi uomini adorano essere picchiati, adorano essere malmenati, va bene? Ora non frustati però picchiati, va bene? Ci sono molti uomini che hanno questa perversione, a me no, a me non piace essere picchiato ovviamente, non me ne fregano i centri di niente, non ho una perversione dei piedi, definisci se ho una perversione, e lo ammetto perché è una perversione sana, non è una perversione strana, assurda, anzi è un po' assurda, lo ammetto, ho la perversione per i fianchi grandi, mi piacciono i bei fianchi grossi, va bene? È una mia passione che ho fin da quando ho, forse dai 22-23 anni in poi, è una passione che ho sempre, diciamo, ho coltivato, ho imparato ad averla, non capisco nemmeno come mai è nata, non so nemmeno io, anche se da piccolo avevo la passione per le gambe delle donne, poi ho cambiato e è diventata questa qua. Ma per quanto riguarda la, chiamiamola, situazione delle donne muscolose, secondo me quest'ultime non si devono vergognare, perché? Perché fa parte della loro personalità, però una mia opinione è la seguente, cioè che una donna muscolosa, secondo me, ricorda vagamente un uomo, un uomo, quindi sì alla femminilità, una femminilità può anche essere muscolosa, ma non eccessivamente muscolosa, deve essere una muscoliosità, devono essere muscoli non troppo evidenti, ma giusti, va bene? Questo che significa quindi? Significa che di fatto le donne muscolose hanno il loro fascino, hanno il loro perché, ma non devono essere troppo muscolose, ma lievemente, sia i muscoli dei glutei, sia i muscoli delle cosce, delle gambe, che dir si voglia, si lieve, lievemente ai bicipiti, cioè ai muscoli delle braccia. Un po' di spalle larghe non fanno male, mi piace una donna, però no tassativo assoluto agli addominali, no chiaramente a seni duri, cioè che diventano duri grazie ai muscoli, no a coscioni durissimi, pieni di muscoli, una cosa lieve, giusta, tonica, cioè per me il muscolo che la donna può avere deve essere sinonimo segno di tonicità, tonica, la donna tonica, va bene? Non la donna muscolosa, ma sia la donna tonica, ok? Perfetto. Detto questo, appresso le donne mi piacciono, le donne sono un'altra metà del cielo, una donna muscolosa me la farei, la timbrerei, la bomberei, sì, perché no, a patto che sia lievemente muscolosa, che poi muscolosa è sbagliato come termine da utilizzare, direi tonica, lievemente tonica, non muscolosa, ma tonica, ripeto nuovamente. Perfetto. Spero che sia tutto chiaro, questo video nasce perché una utente qua su YouTube mi ha chiesto, puoi fare un video in cui parli di donne muscolose, il tuo pensiero, il tuo parere su di loro e magari ne fai vedere qualcuna e dici se te la bomberesti o te la passeresti, no, purtroppo non ho la possibilità, allora perché ho problematiche, però magari o domani o dopo domani farò un video proprio in cui farò vedere donne muscolose e farò la fisatrice di domanda, la bombi o la passi? Me la bomberei o me la passerei? Detto ciò, grazie a tutti, da vostro Leandro, il conoscitore italiano di YouTube Italia, iscrivetevi a questo canale, mi raccomando, ci tengo ad avere la vostra iscrizione sacra, al prossimo video una buona giornata, una buona sera da voi.